Sabato 8 giugno e domenica 9 giugno tutti i cittadini a venti diritto sono chiamati al voto per le elezioni europee. In tanti comuni nella stessa giornata si svolgeranno le elezioni amministrative. I seggi saranno aperti da sabato 8 con orario 15 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Per votare bisogna essere in possesso di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. Per le elezioni europee si potrà tracciare la croce sul simbolo del partito prescelto. Si potranno esprimere fino a tre preferenze per i candidati al Parlamento europeo collegati alla lista. Non è permesso il voto disgiunto. Per esprimere fino a tre preferenze si dovranno seguire queste indicazioni. Se si scelgono due candidati bisognerà scrivere il nome di un uomo e di una donna. Se la scelta ricade su tre candidati bisognerà scrivere il nome di due uomini e una donna oppure due donne e un uomo.